Siamo presso l'elegantissima sala specchi del circolo sottufficiali della Marina Militare di Taranto che ha voluto ospitarci per questa intervista con il professor Angelo Carrieri, noto preside, oggi si dice dirigente scolastico, dell'Istituto Cabrini di Taranto. E parliamo della sua fatica letteraria, Ambiente svenduto, il benessere avvelenato del pianeta acciaio. Antonio Mandese, editore. Beh, professor Carrieri, che dire, Ambiente svenduto ha scritto pagine davvero incredibili di quella che è stata l'ex Ilva. Pagine raccapriccianti. Intanto, come le è venuta l'idea di dar vita a questo libro? Diciamo, come si dice per i preti, una volta sacerdote, per chi crede naturalmente, sempre sacerdote. Semel e semper. Una volta professore, quindi speriamo non imperfettamente educatore, sempre educatore. Cioè mi è venuta la voglia di raccontare. E l'illusione, forse Pia, perché c'è molta distrazione, chiamiamola così, ma l'illusione Pia è quella che volevo raccontare, vorrei raccontare ai giovani, ai millennials, a quelli più giovani ancora, che cosa è stata a Taranto negli ultimi 60 anni. A partire da quegli anni in cui avevo 10 anni, sia per la mia giovanissima età allora, sia perché facevo parte di un complesso culturale a cui sfuggiva la gravità di quello che stava accadendo. Potremmo dire che avremmo dovuto già dall'inizio, forse, temere i greci, anche quando ci portavano doni. I latini dicevano Timo, Danas, Dona Ferentes. Il dono era quello dell'Iri, che ci portava lo sviluppo, diciamo, nel sud, ma era uno sviluppo a cui mancavano i presupposti necessari dal basso ed è stato imposto dall'alto. E' stato uno sviluppo avvelenato perché si è dimostrato così già dai primi anni, tant'è che qualche d'uno situa dopo gli anni 70 o addirittura negli anni 80 la presa di coscienza. No, io lo contesto questo fatto. Nel 65 l'allora ufficiale sanitario dottor Leccese scrisse una lettera durissima al presidente del consorzio ASI e al direttore della fabbrica, dell'allora fabbrica di Stato, per mettere in evidenza la gravità delle emissioni e delle omissioni, potremmo dire, relative alla tutela dell'ambiente e della salute dei Tarantini. Se è accaduto quello che è accaduto, lo si deve alle responsabilità enormi, criminali, di una classe politica, di una classe di sindacato. Ecco, ci sono delle responsabilità enormi che quelle sentenze hanno appunto individuato. Ma non solo le sentenze, già prima delle sentenze, in itinere, a partire da alcuni anni, pensate che, io lo dico spesso nel libro, diciamo, ma c'era proprio bisogno che fossero dei privati, comunque si chiamassero Marescotti, Matacchiera, con altri nomi e cognomi, che dovevano essere loro a ricordarci quello che avveniva, che nel pecorino dagli allevamenti vicini all'area industriale c'era la diossina, no? Mentre in Italia i valori obiettivo, i valori soglia, limite, erano stati aumentati all'eccesso, per cui non c'era ufficialmente emissione di diossina, quando poi scoprimmo che invece la diossina c'era, ed è stato un privato che ce l'ha fatto conoscere, Marescotti e chi con lui ha lavorato. Cioè, voglio dire, abbiamo avuto, come diceva lei poco fa, una classe politica, una classe dirigente, devo dire, ahimè, della quale ho fatto parte io anche moltissimi anni fa, perché poi è nato come... ho fatto bene a ricordarmelo, mi sta venendo in mente adesso. Io mi sono vergognato di essere stato, non l'ho scritto, ma mi sono vergognato, di essere stato consigliere comunale, con qualche incarico anche... Vabbè, non aveva colto, non ha avuto mai, grazie a Dio, dirette responsabilità in materia. Non avevo mai colto la gravità delle omissioni della classe dirigente, perché vede, c'è una legge che io non conoscevo, la 1365, non vorrei sbagliarmi, 364 del 35, mi pare, quindi un reggio decreto, che all'articolo 26, all'articolo 27, specifica che una cosa normalissima, non potevano conoscere naturalmente il linguaggio scientifico che abbiamo conosciuto dopo, alla lezione degli ambientalisti, seguendo i loro studi, le indicazioni, però era già chiaro che certo tipo di lavorazioni indicate dall'OIARC, l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, le lavorazioni siderurgiche, erano normalmente cancerogenetiche per gli uomini, per le persone, mentre sono state, come dire, insediate dentro la città, addirittura si è fatto spazio, si è distrutto un paesaggio che non era solo un paesaggio geografico, era un paesaggio umano, meraviglioso. Professor Cardieri, così scorgendo, sfogliando il suo libro, soffermiamoci su qualche punto che le sta particolarmente a cuore, che ritiene molto significativo per i lettori. Ma devo dire, con qualche zona, non di ombra, ma insomma di ambiguità, sì, di ambiguità, mi scoccia dirlo, io sono cattolico, e quindi per me era molto importante la posizione che comunque ha rappresentato la Chiesa rispetto a questi problemi. e devo dire che c'è un capitoletto che poi purtroppo il libro doveva essere un saggio rivulgativo e quindi non poteva essere quello che era originariamente molto più ricco, di foliazione, quindi di approfondimento dei problemi. Ma io mi sento molto rappresentato, devo dire, non nella sviolinata, perché alla mia età non si ha bisogno di fare sviolinate a nessuno, ma dalla Chiesa di Filippo Santoro, dell'attuale arcivesco, che sulla scorta del laudato sì di Francesco ha preso immediatamente posizione attraverso, mi ricordo, il suo portavoce, Don Emanuele Monsignor Fierro, respingendo la famosa insinuazione che ci fosse una qualche parentela, uso proprio a memoria, perché me lo ricordo, dovuta al fatto che, come saprà, fino a pochi mesi prima, quando c'era Monsignor Papa, che era infama di grandissimo teologo, non avrei cambiato spesso una virgola di quello che diceva, però, ecco, mi turbò moltissimo, ripeto, per la mia parte di cattolico e non di laico, il fatto che avesse messo un po' nell'ombra Monsignor Papa gli ambientalisti locali, prospettando la possibilità, che in effetti ci poteva essere, che l'ambientalismo potesse essere un momento di strumentalizzazione per finalità di altro tipo. E io invece dico che questo inquinamento spirituale, magari ci poteva anche essere, ma innanzitutto non si è dimostrato che quelli che io conosco non hanno fatto nessun tipo di carriera particolare, ma poi l'inquinamento materiale è ben più serio di quell'inquinamento eventualmente spirituale. Preside, in quanto... E di quello non abbiamo mai parlato, insomma, nel mondo cattolico, in verità, prima. Tant'è che l'amico, perché era un amico, io lo conoscevo da ragazzo, Giro Marchinà, Cataldus d'Argento, insomma, mi è sembrato davvero... Però c'è anche da dire che non dimentichiamoci, purtroppo, quella chiesa, Gesù, divin lavoratore, vide le facciate tinteggiate, la tinteggiatura della chiesa, regalata, questa tinteggiatura, gentilmente offerta da Ilva. Così come le famose fontanelle al cimitero, con tanta di inaugurazione, era presente il sindaco Stefano, era presente la sua giunta. Quindi, voglio dire, c'è stata sempre una commistione vergognosa, anche, tra sacro e profano, voglio dire, tra anche l'ente ecclesiale e purtroppo una fabbrica che uccideva. E non si poteva dire che non si sapesse cosa produceva l'Ilva. Sì, sì, è stato un po' silenziato, questo va detto. La svolta decisiva l'ha presa la... Perché dare un cataldus d'argento ad Archinà, beh, mi sembra quantomeno uno sproposito. Le devo dire, direttore, che personalmente, naturalmente, non ho competenze di tipo giuridico come chi mi sta invece intervistando, però personalmente continuo a ritenere che persone come Archinà, se non meritavano il cataldus d'argento, e sicuramente non lo meritavano, ho l'impressione che forse non meritassero nemmeno decine di anni di... Perché veda io... Però se pensiamo ai tanti morti... Sì, sì, però, caro direttore, voglio tentare in questo libro di essere equilibrato, e anche come persona, al di là del libro. Io penso che c'è Anna Arendt, che lei ha studiato più di me, o almeno quanto me, parla di banalità del male. Cioè, molte di queste persone, compreso, secondo me, Gironomo Archinà, mi consente di dire, erano in fondo in un regime liberale, che non era quello illiberale a cui si riferisce Anna Arendt per quanto riguarda il nazismo, ma erano persone che ritenevano di fare il loro dovere. Io ho parlato con... Erano pedine di un sistema deviato. E finivano per diventare inconsapevoli volontari. Cioè... A suoi fatti. Io non ho seguito il processo, ripeto, e in fondo, diciamo, tutte le parti. Il libro si doveva chiamare dall'inizio Nessuno è innocente. Il mio titolo prediletto era Nessuno è innocente, ma nel senso che, se non è innocente, sicuramente tutto quel mondo che Pasolini chiamava omologato, no? Il potere omologa i potenti, diceva Pasolini, giustamente, profeticamente, negli anni 60-70. Quindi politici, sindacalisti, siamo d'accordo. Erano accomodanti tutti con l'ILVA, per non dire peggio, no? Secondo me non è innocente nemmeno il popolo di Taranto. Io non emetto giudizi sul popolo di Taranto. Voglio riconoscermi nei vizi e nelle virtù della mia gente, della nostra gente. Ma non posso difendere alla fine o in fondo, nel momento in cui il Consiglio di Stato dice certe cose. No? Mi permetto di arrivare poi all'attualità, se me lo consento. Certo, certo. Se me lo consento. Il Consiglio di Stato dice che ferma restando il fatto che le lavorazioni siderurgiche provocano emissioni capaci di uccidere poi in definitiva e noi cercare eufemismi. Però non è talmente imminente la... Quella sentenza sa molto di Stato perché lo Stato purtroppo non ha nessuna intenzione di chiudere l'ILVA. Quindi quel Consiglio di Stato è strumentale allo Stato. E sappiamo sappiamo da chi lei lo sa meglio di me io ho dovuto studiarlo chi sono i consiglieri di Stato in genere sono persone che collaborano con i ministri che sono stati nominati per un quarto... Certo, frattini eh. Quindi è gente dell'apparato è gente della casta però al di là di questo io dico basterebbe ecco io il giorno dopo per esempio pur non essendo ambientalista nel senso storico di basso profilo non mi sono mai esibito la prima cosa che ho detto è questa e l'ho detta per iscritto perché forse non avevo altro spazio per dirlo in passato e Taranto è Genova ma la vita umana a Genova vale di più allora noi siamo veramente una colonia Taranto i tarantini non si sanno ribellare questa è la verità il giorno dopo il giorno dopo ero stato invitato a Piazza Marconi non conoscevo giustizia per Taranto ci sono anche delle belle persone devo dire molto politicizzate esponenti di giustizia per Taranto con tutto il rispetto persone per bene ma alcuni esponenti sono ufficialmente schierati politicamente col centro-sinistra ufficialmente questo aspetto non mi interessa io sono andato perché è giusto in questo momento far conoscere questo libro non è che certo no ma stiamo parlando di persone per bene ci mancheremo ma ho conosciuto persone preferiscono fare i nomi per non fare discorso ma infatti ma ho conosciuto le belle persone anche lì e ho visto delle belle dinamiche psicologiche per esempio vi dico una banalità può sembrare mentre stavo lì un mercoledì perché loro si uniscono i mercoledì a Piazza Marconi ho visto un parcheggiatore abusivo che non aveva una faccia molto raccomandabile che si è avvicinato a uno di loro ha detto posso pulire per terra io ho chiesto ma chi è? è un parcheggiatore abusivo però ha preso talmente a bene questo fatto che noi ogni tanto discutiamo della città dei problemi dell'ambiente quindi voglio dire io preferisco lei dice politicizzato preferisco che qualcuno sia politicizzato ma abbia una fede in qualcosa il giorno dopo il Consiglio di Stato io vedo 50-60 ambientalisti quando da ogni palazzo dovevano uscire i cittadini come mi è stato io non sono un cultore del pallone preferivo la palacanessa ci giocavo anche ma ho saputo che quando il Taranto aveva dei problemi con Catania si si salta in area una città salta in area una città barche per strada ma questi lo sanno che stanno ipotecando per il triste fenomeno della latenza tra le emissioni e l'incubazione delle malattie dovesse chiudere oggi per 30 anni nessuno si può dire completamente fuori dalla possibilità di un discorso proprio di genotossicità proprio nel gene entra nel gene e allora preside ci avviamo alla conclusione in effetti spostando il discorso ai nostri giorni diciamocela tutta da Ilva da Archinà dai Riva ad ArcelorMittal alla Morselli ad Acceierie d'Italia diciamoci la verità poco o nulla è cambiato la verità è che lo Stato ha deciso di sacrificare Taranto sull'altare della produzione e per Taranto non vale certo l'espressione la vita di un bambino non vale tutto l'acciaio del mondo purtroppo Taranto questa almeno è la mia così conclusione è carne da macello anche perché i tarantini non sanno ribellarsi riprendendo il discorso di prima questa città dovrebbe insorgere civilmente democraticamente ma dovrebbe insorgere un po' l'immagine della molle Tarentum ritorna a bomba condivido condivido ai me io non sono mai stato come sai un rivoluzionario moderato sempre tant'è che molti amici quando scrivevo perché mi dilettavo anche io del giornalismo magari mi vantavo che potevo far carriera nel giornalismo diciamo ma tu Angelo puoi scrivere al massimo l'avvenire perché in un giornale laico sei troppo schierato non è vero non è vero ho sempre cercato la verità al di là delle posizioni più di comodo o diciamo precedenti preesistenti per ognuno di noi io penso che sia arrivato il tempo in cui in questa città non si può più ignorare questa cosa proprio faccio un appello di tipo sentimentale se vogliamo bene ai nostri nipoti nemmeno ai nostri figli che sono già grandi ma ai nostri nipoti ai tarantini che verranno ora non possiamo lasciare solo da alcune persone con tutto il rispetto veramente per queste persone gli ambientalisti storici il privilegio anche di rappresentare un certo mondo dobbiamo diventare tutti e come si dice siamo tutti americani siamo tutti tedeschi dopo la caduta del muro di Berlino come disse Kennedy e in questo caso siamo tutti ambientalisti dobbiamo diventare bene ambiente svenduto il benessere avvelenato del pianeta acciaio con prefazione di Pino Aprile l'ultima fatica letteraria di Angelo Carrieri un libro da leggere quasi tutto di un fiato per le riflessioni che tanta cultura tanta esperienza e tanta saggezza hanno conferito a questo scritto che ci sono Grazie a tutti.